Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Valeri esulta tutta la gremonese per questa opportunità che si sta facciando e per un calcio di rigore di differenza ora che deve in pratica essere confermato dalla battuta che è affidata a Valeri. Valeri si incammina verso il pallone. Gli applausi del Maradona all'Obotka che ovviamente torna sconsolato a metà. Gli applausi del Maradona all'Infinito! Che cosa è successo? Dobbiamo usare però, se no è sprecato. La prende Totem tecnicamente. Bravo con le lunghe leve. Bravo Totem! La gira! Perché non ti fai così bene? Perché non ti fai così bene? Perché non ti fai così bene? No! Ha segnato, ha segnato, ha segnato, Cosime! Magmo, ma che un mostro, Cosime! Non piace, Cosime! Ma però! Ma me! Ma la tua Cosime! Si falta Cosime! Cosima! Cosima… Cosima! Cosima… scusa canzone di gta cos'è che hai detto precisamente no devi entrare in grande sole più il polso ma sei cretino sei formaggino gianco vabbè porco dio codiglio la madonna puttana ma non lo dira si loro sto putt di merda il capo il sabato sera come si pica tutta è vero che questo c'era questo no ho preso un vino porco dio si mi fa male il cuore san mador brasil mador brasil san mador brasil io devo vendere i miei amici ma ce n'è uno qui accanto a me è qui 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 si no no proprio accanto a me mi sa che qui dietro ti avevo detto di non prenderlo però perché ti comporti così perché ti comporti così ho usato il tp qui dietro lo sapevo che tu lo vuoi non posso farti imbricare perché non sei capace a lavorare madonna troia questa cosa mi fa mi fa in bestialire dio cane non è che ci aveva il posto fisso non funziona così dio cane una troia porco ti giuro sulla madonna frate sto affermo finché non trovo questo avvorto nato non si sa da dove ti giuro il figlio del caffè il muschi che una tua madre ma sei scema ma dove ha fatto un mini jump scores perché c'era il cadavano un gioco del gioco peggiore di sempre è se giocate a fifa dovete abortire dio porco è scriptatissimo si è ridicolo il timing dell'anno davidson oddio no niente non ci voglio gioca più da cangia che ha per i nove stagate per gli undici ah ah sei il coglione sei un salamino beretta vieni qui vieni qui ah vieni qui insidiose creature si celano nell'oscurità non allontanarti troppo dalla riva il prosciutto di parma non lo vendono frate non lo posso comprare ma è una cazzata perché se tu lo cerchi lo trovi invece di comprare lo spec di merda non c'ha senso frate se tu vai e lo trovi ci starà un cazzo di carfour con dentro lo spec non c'è il carfour lo capisci ma non c'è il carfour ma da qualche parte lo trovi il cazzo di prosciutto di parma se devi andare avanti col cazzo di spec si allora non lo capisco non è che non lo capisco ma è una questione proprio che perché se non sarei perseguito legalmente e messo in galera bello questo tiktok che ti sto per fare e c'è gente che ha creduto a queste parole ragazzi decontestualizzate tutto mettete su tiktok l'ha messo arrivare a un milione di iscritti è una bellissima sensazione facciamola provare anche chi se lo merita allora ragazzi una bici per terra uga uga si e quelli scappano un po' giallino 5 rigori tutti nello stesso angolo nell'angolo alla sinistra del portiere sia i destri che i mancini hanno scelto quella soluzione tutti ben calciati frate ma è perfetto tante non spoilerate infatti borisso dovresti fare a volante chat quelli che stanno a scrivere che la vedo pure io ma sta a sentire apposta si opera mamma mia frate che bello con il sinistro centro gran rigore anche questo il maestro quasi prime grazie tutto l'impossibile e bose bose no b pizza l'ho detto l'ho detto no quando ti renderanno conto che perderanno i soldi ma e non puoi farlo perché tipo io posso togliere la possibilità delle persone di farle clip quindi non avrebbe senso tipo non so nel canale tuo vabbè comunque mi devi dare mille euro gami